ciao e benvenuto in questa tua prima classe di ginnastica dolce io sono Gianluca Italiano sono un fisioterapista e voglio portarti in questo percorso di ginnastica di attività fisica per pignorare sia la tua condizione fisica che anche la tua condizione mentale e il tuo stato emotivo questo tipo di ginnastica dolce è basato principalmente sulla respirazione e va bene per tutti questa è la prima classe in questo momento potresti essere seduto per terra come me o anche su una sedia va bene lo stesso andremo a vedere i punti principali di una buona attività fisica il primo punto credo che sia proprio la respirazione in queste attività che faremo tante volte ti verrà spontaneo andare a utilizzare la bocca a respirare per la bocca io ti consiglio sempre di usare il naso e respirare attraverso le narici normalmente le persone iniziano a respirare con la bocca quando le attività sono molto intense ma faremo tutti degli esercizi che invece saranno accettabili e che non richiederanno grande sforzo muscolare per cui abituati a respirare col naso che ti farà bene partiamo così quindi da qui chiudi gli occhi rilassa bene le spalle e il collo e facciamo un respiro profondo inspira e butta fuori l'aria dalla bocca di nuovo dentro dal naso e fuori dalla bocca e ancora un po' più forte apri pure gli occhi com'è andata come vanno i tuoi pensieri quando respiri la mente è abituata proprio a fare queste cose a saltare da un pensiero all'altro in un continuo susseguirsi di cose e a volte concentrarsi sul respiro e stare più attenti al proprio corpo ti aiuta ad uscire da questa fobia da questa frenesia dell'attività quotidiana per questo fare l'attività fisica attraverso la respirazione ti può aiutare anche ad essere più rilassato essere più ristaccato dai tuoi impegni quotidiani che ti asciugano e che ti tolgono tutte le energie e riprendere un attimino il controllo e la conoscenza di te stesso dopo questi minuti i primi minuti iniziali potrebbe averti dato un po' fastidio alla schiena perché effettivamente questa è una posizione tanto comoda per cui l'ho messo qua vicino a me sia un cuscino che un asciugamano puoi usare entrambi che sia però un cuscino abbastanza duro per metterli proprio sotto il sedere magari proprio l'asciugamano è un po' più rigido anche in questo caso lo uso io e se sei invece già su una sedia va benissimo così sei già comodo ma in questo modo ti aiuta ad alzarti un pochino a liberare le gambe e le anche e ad avere un po' la schiena un po' più morbida e più rilassata senza tensioni da questa posizione iniziamo incrociando le dita e andiamo ad allungarci in alto sguardo ai pollici inspirando stiriamo bene la schiena e poi andiamo a portare le braccia in avanti a inarcare la schiena a ruotarla bene la testa guarda in basso e inspiro guarda in alto mi allungo ed espiro mani in avanti ruoto bene la schiena inspiro ed espiro riposo le mani sulle ginocchia andiamo a fare dei cerchi per rilassare la schiena andiamo a piegare bene indietro a ruotare a destra a sinistra inarcare lasciamo proprio sciogliere la schiena muoviamola come meglio ci sentiamo morbida rilassata prima da un lato poi dall'altro sentiamo bene le vertebre muoversi il più possibile poi da questa posizione la mano sinistra si appoggia sul ginocchio destro la mano destra si apre in fuori inspiro raddrizzo la schiena il petto in fuori ed espiro ruoto cercando di guardare dietro la schiena inspiro mi allungo verso il soffitto espiro ruoto ancora un altro respiro dentro e fuori l'aria rilasso e cambio lato la mano destra sul ginocchio sinistro la mano sinistra si apre indietro inspiro mi allungo ed espiro ruoto un po' di più 1 2 e 3 rilasso ritorno in posizione di partenza appoggio la mano destra al pavimento o se siamo sulla sedia semplicemente la portiamo giù verso il pavimento e sollevo il braccio sinistro in alto per andare a stirare tutto il fianco sinistro in questa posizione cerca di non portare il braccio in avanti piegarti in avanti ma di tenere il braccio indietro e in asse con il resto del corpo per sentire bene la tensione proprio qua nei muscoli della spalla facciamo degli espiri profondi cerchiamo proprio quando inspiriamo di portare l'aria sul polmone sinistro e aumentare la tensione e aumentare la tensione e 3 scendo lentamente e cambio lato eh mi metto sul lato sinistro appoggio la mano sinistra al pavimento sollevo la mano destra la porto in asse con il resto del corpo inspiro riempio bene il polmone destro ed espiro mi stiro un po' di più e rilasso con le mani unite andiamo piano piano a gattonare avanti con le mani la testa rilassata lo sguardo al pavimento andiamo a stirare bene la schiena ci fermiamo dove ci sentiamo comodi senza forzare in una posizione di leggera tensione per la muscolatura della schiena e del collo e facciamo 3 respiri profondi 1 2 e 3 torniamo lentamente dritti ci giriamo sul fianco appoggiamo le mani e siamo in posizione a 4 zampe da questa posizione andiamo a inspirando a inarcare la schiena sguardo in alto ed espirando faccio una curva con la schiena e sguardo verso le ginocchia inspiro guardo in alto espiro sguardo alle ginocchia cerchiamo di spingere le mani contro il pavimento e arcuare bene la schiena ruotarla più possibile inspiro in alto e espiro giù ed espiro riposo inspiro sollevo la gamba destra indietro piede a martello tengo la posizione lo sguardo in mezzo alle mani espiro scendo inspiro cambio gamba sollevo la gamba sinistra piede a martello tengo la posizione ed espiro scendo avvicino le mani tra di loro leggermente inspiro stacco la gamba destra e allungo la mano sinistra tengo la posizione un respiro profondo espiro ritorno alla posizione di partenza inspiro cambio lato gamba sinistra mano destra si allungano entrambe per toccare la parete ed espiro posizione di partenza e riposo mi siedo sui talloni appoggio la testa al pavimento le braccia lungo il corpo e riposo bene la schiena stirando bene la schiena faccio dei respiri profondi sentendo come si riempiono bene i polmoni ritorno con le braccia avanti a quattro zampe punto i piedi stacco le ginocchia e cerco di spingere piano piano la testa in mezzo ai gomiti le ginocchia rimangono piegate lo sguardo è in mezzo alle gambe il mento in dentro tengo questa posizione sentendo che piano piano più spingo la testa in mezzo ai gomiti e per il sedere verso il soffitto più aumenterà la tensione sui polpacci e sulle gambe lavorano molto le spalle cerchiamo di tenere questa posizione per tre respiri profondi due e tre piano piano cammino in avanti con i piedi e con le mani all'indietro mi fermo in questa posizione abbraccio le mani la testa rilassata di nuovo da questa posizione appoggiamo le mani al pavimento torniamo indietro con i piedi appoggiamo le ginocchia e andiamo a rilassarci appoggio la fronte stiro le braccia avanti e mi allungo bene stirando bene le spalle mi metto in posizione a quattro zampe la mano sinistra passa sotto il braccio destro appoggio il viso al pavimento stiro abbraccio a destra in avanti rimango in posizione un respiro profondo e un altro respiro e quando butto fuori l'aria ritorno nella posizione a quattro zampe inspiro e fuori l'aria cambio lato mano destra sotto il braccio sinistro appoggio il viso appoggio il viso stiro il braccio sinistro in alto due respiri profondi mi respiro ritorno in posizione di partenza giro sul fianco mi siedo e da questa posizione stendo le gambe metto le mani sotto le ginocchia l'appoggio di fianco e da questa posizione cerchiamo piano piano di stirarci in avanti fino a quando non sentiremo un po' di tensione sotto le gambe le ginocchia possono rimanere anche leggermente piegate e da qui facciamo dei respiri profondi e quando inspiro cerco di raddrizzare la schiena e portare le spalle indietro rilassa la schiena ginocchia unite la mano destra si apre in fuori andiamo a ruotarci bene da un lato e poi cambiamo lato abbraccio con la mano tutte e due le ginocchia porto il braccio sinistro in fuori inspiro mi allungo verso il soffitto ed espiro rilasso andiamo a stendere le gambe ci mettiamo sdraiati a pancia in su da questa posizione inspiro allungo tutte e due le braccia e spingo le punte dei piedi verso il pavimento e allungo bene cercano di stirare bene tutti i muscoli un bel respiro profondo e fuori l'aria e di nuovo inspiro e poi fuori l'aria portiamo il ginocchio destro al petto e il ginocchio sinistro al petto li abbracciamo e andiamo a fare dei piccoli cerchi per rilassare bene la schiena rilassare la zona lombare lascia giù le braccia e da qua con i piedi uniti portiamo le gambe da una parte e dall'altra torniamo in centro e poi a sinistra possiamo aiutarci con la respirazione inspiro in centro espiro scendo dall'altra parte inspiro in centro ed espiro scendo ed espiro riposo inspiro sollevo il sedere espiro rimango in posizione inspiro ed espiro ed espiro scendo una vertebra alla volta piano 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 portiamo le ginocchia al petto prima la destra poi la sinistra andiamo poi a prendere le gambe dietro il ginocchio e da qui cerchiamo di stendere le gambe dritte teniamo la posizione facciamo dei respiri profondi non importa se le gambe non si stendono del tutto sentirai l'attenzione qua dietro la fatica dei muscoli lasciamoli lavorare e poi piego le gambe e appoggio i piedi al pavimento stendo tutte e due le gambe rilasso le braccia chiudo gli occhi e mi riposo e mi riposo portiamo adesso l'attenzione al respiro cerchiamo di fare dei respiri sempre più profondi sempre più lenti andando a sentire l'aria che entra nel naso riempie i polmoni e lasciamo poi che l'aria esca da sola senza sforzo porto l'attenzione alla gamba destra il piede destro è pesante è rilassato il polpaccio è rilassato il ginocchio e la coscia destra sono pesanti rilassati la mia attenzione si sposta alla gamba sinistra il piede è pesante il polpaccio sinistra è pesante il ginocchio e la coscia sinistra sono pesanti e rilassati i glutei sono pesanti e rilasso bene anche i muscoli della bassa schiena mi aggiusto mi sistemo perché non mi dia fastidio sposto l'attenzione al braccio destro la mano destra è pesante il gomito è pesante il bicipite e la spalla destra sono pesanti la mia attenzione va alla mano sinistra che è pesante il gomito è pesante il bicipite e la spalla sinistra sono pesanti rilasso i muscoli della spalla rilasso il collo e la mia testa è pesante e la mia testa è pesante torno con la mia attenzione al respiro sento l'aria che entra e mi riempie d'energia e quando esce porta via tutte le tensioni e mi rilasso e mi riempie d'energia piano piano torno a muovere le dita delle mani e dei piedi andiamo a fare dei cerchi con i polsi e con le caviglie porto il ginocchio destro al petto lo abbraccio con tutte e due le mani tenendo gli occhi chiusi faccio un bel respiro profondo inspiro e quando espiro riporto la gamba lungo il pavimento porto il ginocchio sinistro al petto lo abbraccio inspiro ed espirando riporto la gamba lungo il pavimento inspirandoci allunghiamo solleviamo le braccia sopra la testa e stiviamo bene tutto il corpo come se stessimo per risvegliarci piano piano apriamo gli occhi e pieghiamo le gambe portiamo il braccio sinistro sul lato destro ci giriamo sul fianco ci stiviamo bene appoggiamo la mano e ritorniamo seduti nella posizione di partenza rilassiamo bene le spalle e il collo e per oggi abbiamo finito spero che questa lezione ti sia piaciuta ti sia servita questa prima introduzione alla ginnastica dolce che ti senta un pochino più rilassato e tranquillo che abbia imparato a gestire il respiro e a sentire e ascoltare anche i tuoi pensieri se ti è piaciuta la lezione metti un pollice in su iscriviti al canale faremo diverse lezioni come questa per introdurti piano piano ad esercizi sempre più competenti sempre più globali e sempre più utili per la tua salute a presto